Allora, benvenuti, eccoci, vediamo la quarto incontro, il quarto video, dove vediamo qualcosa di un pochino più interessante Allora, qui siamo dove eravamo rimasti l'altra volta, vediamo un fatto un po' strano, vedete che ci sono più versioni di avatar perché sono tutte le finestre in cui è collegato ancora quell'avatar quindi in realtà si può essere nello stesso momento in più posti diversi ma noi comunque andiamo, navigation, personal, ci troviamo la nostra casina, quindi Serene Springs qui abbiamo visto che questa è casa mia, di questo alt, Serene Springs, che vuol dire, credo, primavera e sereni ed eccoci qua dove abbiamo messo una casa l'altra volta Ora, andiamo un momento a esplorare come si costruiscono in realtà le cose e come in particolare si mette una texture, qualunque essa sia, sul vostro oggetto Ora, ci sono svariati sistemi per farlo, però proviamo a vederne di usare uno con cose autoctone cioè fatte da noi, quindi proviamo a costruire un pannello quindi costruiamo un pannello, ecco facciamo, così vedete, facciamo un pannello così, e poi usiamo la tecnica dell'estrusione per fare un pannello così, ok? Ora, questo pannello vedete che ha già il materiale, quello che gli ho messo l'altra volta Ora, se io voglio mettergli un altro materiale andiamo un attimo in Build e vediamo questo oggetto in Edit Mode, come va insegnato vediamo O, oppure Object vediamo le caratteristiche dell'oggetto e finalmente vediamo un attimo quali sono le cose che può ospitare quindi vedete che noi, allora si chiama Block Mesh perché è quella che ho costruito ma le Mesh sono praticamente le principali cose di cui è costituito un oggetto in questo caso noi abbiamo una Block Mesh, questa che ha associato dei materiali quindi dobbiamo metterci un materiale che ci permette di mettere dei disegni sopra ora, in questo momento il materiale è la plastica quella che abbiamo visto prima che è customizzabile con una tinta ma noi dobbiamo costruire e metterci un altro materiale andiamo sul Marketplace perché sul Marketplace abbiamo la possibilità di trovare delle cose che si chiamano Generic Materials e in più c'è anche l'UvMap Texture Mia che ci servirà fra un attimo quindi prendiamo materiali generici poi adesso vi spiego a cosa servono di questi materiali generici la cosa che ci piace di più è credo il non l'additive c'è proprio Generic Materials questo qui lo compriamo è gratis quindi non costa niente ok, a questo punto se andiamo alla nostra libreria ci troviamo Generic Materials questo perché adesso andando nel nostro oggetto che è questo possiamo dirgli che nei materiali invece di avere un materiale qualunque tipo questo gli andiamo a selezionare il materiale generico Generic e dei Generic ci prendiamo il Generico normale questo dunque dovrebbe esserci un Generic Additive dovrebbe essere questo me lo aspettavo diverso allora Generic fatto così vedete che in questo momento questo materiale è bianco ora come facciamo a metterci un'immagine qualunque esso sia dobbiamo customizzarlo con un Diffuse Texture ora la Diffuse Texture che possiamo prendere qualunque immagine come Diffuse Texture l'idea è quella di chiediamo ok andiamo a cercarci un'immagine che prendiamo da Google giusto per vedere anche il processo con cui scarichiamo un'immagine quindi immagine cerchiamo un'immagine prendiamo una rosa per esempio prendiamo questa specie di Irlanda di rosa e vogliamo metterci questa immagine quindi salviamo l'immagine la mettiamo cuore di rose e poi andiamo a farci l'upload quindi vediamo come si fa a fare un upload di un'immagine quindi si fa upload si clicca sul più e qui si cerca l'immagine che abbiamo appena Earth Shaped Roses ok qui a questo punto se noi apriamo vediamo che ha preso effettivamente la nostra immagine e la teniamo come texture l'immagine potrebbe essere o texture o image se vogliamo metterla su un oggetto deve essere per forza una texture e se deve essere un'immagine deve essere diffuse invece vedremo che possiamo avere anche delle normali o altre cose quindi procediamo ecco qui c'è una cosa vedete che mi dice la paletta dove vogliamo caricare l'immagine nuova quindi noi abbiamo una paletta si chiama New utile perché vediamo le cose nuove quindi facciamo upload di questa immagine qui mi dice le dimensioni che verranno comunque visualizzate riportate a 1024 che è la massima risoluzione possibile quindi con un po' di pazienza il video è in tempo reale quindi vedete esattamente quanto impiega a caricare questa immagine dovrebbe impiegarci una decina di secondi quando ha terminato questa specie di clessidra diventerà verde quindi un attimo ancora un po' di pazienza ok noi possiamo nel frattempo ecco è diventata verde perfetto uploaded heart shaped red roses quando abbiamo finito possiamo chiudere questa finestra eventualmente cancellare i completati e a questo punto possiamo provare a vedere nel nostro oggetto nella parte dei materiali generici la diffuse texture e vediamo che abbiamo heart shaped questa quindi la selezioniamo e vedete che abbiamo viene associata ecco questo è il problema dovuto al fatto che l'abbiamo fatta con le tecniche visuali quelle prima in word però possiamo comunque aggiustare il tiling qua vediamo vedere se aggiustiamo no diffuse styling no quindi qua dobbiamo mettere il diffuse quindi all'orizzontale deve essere messo tipo 0,3 un terzo ecco e il verticale invece a 0,5 0,5 ok e così abbiamo fatto abbiamo messo un'immagine come avete visto però abbiamo dovuto giocare un attimo col tiling il tiling vuol dire quanto viene ripetuto l'oggetto la texture e come vedete non è proprio il massimo della comodità perché abbiamo dovuto comunque fare un aggiustamento però insomma in pratica siamo riusciti a mettere una texture proviamo a vedere come mettere una texture invece su un oggetto un po' più comodo da gestire e quindi come vi dicevo prima andiamo nel marketplace e cerchiamo questa UV map texture che ho fatto qualche tempo fa ed è un oggetto gratuito che dentro ha tutto quanto necessario quindi ha un'immagine ha un prefabbricato che potete disporre che ho fatto io e poi ha sempre questo materiale generico e quindi facciamo il buy a questo punto l'acquisto di questa cosa finisce in UV map texture allora come si fa a usare questo oggetto quindi questo è un modo semplificato per poter gestire i nostri oggetti e per mettere una texture in maniera semplificata quindi la prima cosa che dobbiamo fare è rezziamo quindi ho cliccato esc poi dovrei fare rotate per ruotarlo esiste un shortcut basta premere 2 dunque se io seleziono l'oggetto e poi clicco 2 vedete che posso tranquillamente ruotare l'oggetto quindi ho un shortcut scorciatoia invece di andare fino a su scrivo 2 batto nel tasto 2 se no 1 posso premendo 1 ho praticamente possibilità di alterare questo allora come funziona questo materiale andando in object vedete che qui abbiamo tutte le nostre proprietà che possono essere anche complicate da vedere a noi ci interessa invece vedere la customize che vedete che ci fa vedere una e una sola cosa molto semplice e quindi ci promette di customizzare la texture visualizzata in questo momento sta facendo vedere una texture predefinite se io clicco qua mi permette di selezionarne un'altra e quindi andiamo a selezionare heart shaped red rose e come vedete facendo in questo modo io ho applicato la rosa attraverso quello che si chiama un customizer allora la tecnica di customizer ve la accenno brevemente e consente appunto di evitare che l'utente si complichi la vita dovendo definire una serie di cose allora qua quello che succede è che la mesh che è proprio solo questo cubo è stata costruita e gli è stato già assegnato un materiale generico in cui è stato definito che ha la possibilità di customizzare la texture piuttosto che altre cose visto che gli utenti normali potrebbero confondersi allora è stato creato in fondo una parte che si chiama customizer setup in cui abbiamo definito un'entità che si chiama texture che è di tipo texture ed è in particolare una diffuse map e che è impostabile dall'owner quindi attraverso quella linguetta di prima oppure anche dagli script se volessimo e che l'uscita di questa cosa finisce dentro i materiali di questo oggetto e il valore di default che viene presentato è appunto quello che vedete quindi l'effetto finale è che io vedrò nella linguetta customize soltanto i customizzatori che ho definito quindi un customizzatore che si chiama texture tanto per dire se io volessi configurare in questo oggetto anche un'altra cosa allora questo qui possiamo per esempio la tinta che sarebbe il colore potrei qui mettere quello che chiama tint e la tinta è un colore quindi un colore che poi è fondamentalmente un vect... no no è un colore diremmo un colore direttamente il colore di default è nero e noi possiamo dire che questo va a finire dove va a finire background tint se no ci sono anche altre background tint pattern tint proviamo a metterlo solo sul background tint quindi il default adesso è nero quindi se noi gli diciamo di... forse non è quello sarà tint ecco era tint questo quindi vedete infatti che se io cambio il colore questo colore mi viene impostato quindi posso usare altre tinte quindi esempio usare una tinta bianca no non ce la facciamo comunque il concetto è abbastanza questo nel senso che se io definito un customizzatore di questo tipo quando vado poi nel customize mi vedo anche la tinta e la tinta può essere ecco questo qui è il bianco quindi nel momento in cui gli dico di usare questa tinta lui la usa adesso è bianco ma se gli metto una tinta gialla ad esempio vedete che mi ha fatto la tinta gialla quindi in questo modo ci avviciniamo anche alla facilità con cui se con l'iPhone open sim è possibile modificare il colore e la texture associata a un oggetto questo è il modo diciamo facile che ho fatto vedere in una delle lezioni ah solo una cosa una volta che avete completato il vostro oggetto questo oggetto in realtà risulta una coppia rezzata che non è salvata da nessuna parte non aspettatevi che il fatto che sia rezzata in Word sia un modo per salvarla se per caso perdete la sim non ce l'avete quindi la cosa che dovete fare è di andare in modifica e di salvarvi il vostro cartello quindi questo qui magari con i colori giusti quindi andate in modifica e lo salvate come un nuovo prefabbricato e questo nuovo prefabbricato lo chiamate cuore di rose ad esempio cuore rose e poi qui possiamo mettere diciamo newbie dei tags lo voglio mettere come newbie perché è una cosa fatta come newbie cartello sono tutti dei tag che possono esserci utili e abbiamo anche la possibilità poi vediamo di metterci una foto ok abbiamo salvato questo oggetto come cartello questo vuol dire che se ora io vado nella mia libreria bock mi ritrovo da qualche parte quel cartello eccolo qua l'ho messo nella cartella new quindi io posso andare prendermi questo lo clicco melo melo no questa è la no no non è questa questa è l'immagine quindi dobbiamo andare a cercarci il nostro oggetto nuovo il nostro oggetto nuovo possiamo anche cercarlo se non lo troviamo lì attraverso browse e con browse possiamo vedere soltanto i prefabbricati prefabbricati abbiamo quelli di prima e poi da qualche parte abbiamo anche dovremmo avere anche quello che non lo trovo proviamo a cercarlo come new newbie ecco cuore rose l'abbiamo chiamato cuore rose e l'abbiamo cercato attraverso che cosa attraverso newbie ah era qua tra l'altro stupido quindi vedete che qui gli abbiamo messo dei tag che sono newbie e cartello proprio per poterli trovare infatti qui posso scrivere cartello e mi viene appunto tutto ciò che è taggato come cartello qui vedete che è nelle palette quindi le palette sono anche loro specie di tag che però sono visibili quindi io adesso l'ho messo new però ad esempio se io vado all'inizio qua e creo una paletta prendiamo una paletta e la chiamiamo interesting o interessante ok l'ho creata e questa è vuota ora se io voglio mettere le mie cose interessanti dentro questa cartella basta che avendo in browse faccio prefab e lo sposto e questa è automaticamente entrata dentro questa cartella quindi nelle mie cartelle ciò a questo punto interessante qui non me lo fa vedere perché dovrei rifare la ricerca però se io pulisco e poi cerco cartello vedete che a questo punto il prefabbricato compare anche in new è interessante ora se io volessi togliere il prefabbricato questo del cuore di rosa dal new devo andare qua tasto destro e poi devo fare il allora uno dei due cancella l'oggetto e l'altro lo rimuove non mi ricordo mai comunque proviamo dovrebbe essere il delete qua che ce lo cancella adesso vediamo se abbiamo fatto danno quindi torniamo indietro e il delete era quello più più forte quello che lo cancellava quindi era l'ultimo remove quello che lo cancellava solo dalla cartella però non c'è problema andiamo in trash vedete che abbiamo il nostro oggetto cancellato lo possiamo fare land delete e facendo land delete questo oggetto quindi adesso possiamo eventualmente cartella vedete che c'è e possiamo rimetterlo nelle nostre cartelle quindi lo mettiamo vediamo se funziona qua interessante quindi sentiamo interessante vedete che c'è e back ok c'è qua e qua allora stavamo dicendo supponiamo di volerlo togliere da qua quindi facciamo remove che è l'ultima opzione remove lo toglie dalla cartella ma se andiamo a vedere nell'altra paletta c'è ancora quindi l'oggetto si è spostato da una cartella all'altra quindi questo è un modo per allora si visualizza l'oggetto in browse e poi lo si può trascinare e metterlo nella cartella voluta è anche possibile che un oggetto non sia in nessuna cartella quindi se io vado nella cartella interessante e lo rimuovo vedete che l'oggetto a tutti gli effetti non c'è né qua nella new che abbiamo visto prima né neanche in interessante quindi è un oggetto diciamo adesso magari facciamo reset cartello vedete non ci sono non c'è la parte di sotto e quindi questo oggetto è diciamo adesso fuori di tutto ora il fatto che qui c'è scritto che viene dal market che è un market derivato è importante perché quando si fanno delle modifiche a questo oggetto viene creata una copia ma la versione originale dal market rimane sempre nel vostro inventory quindi potete sempre risalire alla versione originale poi volendo una cosa importante potete fare cambiare i metadati abbiamo visto prima e qui potete mettere una fotina un tomb che è quello che userà ma il tomb vedete che non ci abbiamo qui è una foto che ho preso ieri ma sono le immagini che abbiamo in realtà conviene passare da foto studio lo vediamo adesso perché noi facciamo foto studio vedete che mi ha fatto vedere qui posso vedere il mio oggetto tre dimensioni posso anche cambiare il customizer e qui posso mettere diciamo una immagine ok e quindi qui posso se voglio fare un po' di operazione quindi qui sotto c'è il background ecco qui eventualmente ci fa vedere il ground che è però un po' bruttino quindi mettiamo nane prendiamo scattiamo una foto di questo pannello come si fa? ah qui possiamo ingrandirlo ridurlo fotografarlo abbiamo la foto se ci piace facciamo use photo e questa foto verrà usata per individuare questo oggetto adesso qui nelle cartelle non lo vediamo quindi andiamo in browse e vedete che abbiamo questa foto quindi se lo mettiamo nell'interessante ok quindi eccolo qua back eccolo qua vedete che il rinfresco non è proprio automaticissimo però insomma dopo un po' ci si abitua a capire come funziona credo che per questa quarta incontro sia tutto nel prossimo incontro vedremo come associare anche una normal map saluti